Musica Bella a tutti ragazzi, sono MatteoS93 e bentornati sul mio canale Oggi come potete vedere siamo qua in questo nuovissimo video di FIFA 15 Con una nuova partita, squadre deboli contro squadre forti Comunque è una serie che sto portando avanti perché sembra che vi stia piacendo In base alle visualizzazioni mi piace, ai commenti che mi state lasciando Spero continui a piacervi, quindi sfondate di pollicioni questo video E niente, iniziamo subito Questa è una partita che mi ha chiesto di fare un mio iscritto, un mio grandissimo amico, anche Bollets23 Che ha anche lui un canale YouTube, vi consiglio di andarlo a vedere E niente, faccio subito la partita Allora, Bayern Monaco, Brescia, io faccio il Brescia in questo caso Gestione squadra Allora mettiamo ruolo No, modulo 433 Se ve lo fai vedere 433 questo Poi gestione squadra, allora Gestione squadra fanno tutti un po' schifo Questo qua via Mettiamo Il suo dia Eh, buona, va bene così Iniziamo subito questa partita Speriamo sia una bella partita Piena di gol Sensazioni imprevedibili Tutto pronto? A Brescia, credo che lo stadio non sembra quello del Bayern Infatti, siamo a Brescia Si inizia Brescia-Bayern Monaco, ragazzi Tanto c'è in giro questa mosca che sembra un fenicotte Lo sembra, ostia, che non sa come Da un fastidio Dai così Dai a Brescia Su Dai così Dai Che cross in mezzo Uh, già Brescia in avanti Eh sì Giallo qua, voglio il giallo Dai, ye Rosso Cartellino rosso, signori Bayern Monaco Già in In dieci Al settimo minuto Potrebbe Meno Senza Goetz, signori Si, lo so Goetz è il Borussia Però FIFA non ha più fatto Dato gli aggiornamenti Per il punto Oh, Lewandowski da sola Bene, così Ma cazzo di mosca Mamma Che merda Corby, se ne va Ecco, sei fortunato con il giocatore Siamo già bene Iniziamo Ok Ok Adesso Vediamo Ci 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 Bene così Dai dai Mamma mia che bella questa azione Devo fare il pallonetto un po' più lungo Mamma mia Bene bene Sto giocando bene dai Bene così Via via Aviamo la via Bocca no Bocca di piedi Dai ragazzi Dai dai Un po' Non si strozza Un altro giallo signori per il Bayern Mamma mia Dai 32esimo 0-0 Bayern Brescia Per me è interessante Sì però se poi la passiamo Abbiamo un rischio Anzi Dai dai Non bene che ti baggio Via via su Dai corri Buono buono dai Alla nostra anche Il cross in mezzo Madonna Minchia perito Mamma mia Mamma mia Non soffro me Numero Sonata Un numero uno Un numero uno Di Non soffroixi Nolle toutes Il dai dai così siamo in due corri vai così vai così all'ultimo dai 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 tira merda devo tirare da lì lo so che cagata per fatto 0 a 0 primo tempo dai buona l'erroba cave o che c'è la chiama come 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 controllo come 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 buz delta buzitt 20 po'. 20 po'. Mosca di merda. Chiava. Sì, non ho mai chiesto di essere. Perfetto è la percezione. La percezione è tutto che possono vedere. Ma è così. Scusate, sembra un po'. Ho schizzato, ma c'è una cosa che non preparo. Ma è così. Oh, madonna. E' il padre, ma va a cagare. Sei il fagota. Uh, pericolo, meno male. Fuori di poco. Ah no. Sì. 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 Dai, dai che siamo... Dai, dai così. Dai. Dai. Uh. Porco. Schifio. Bene, così. Non si riesce. Non si riesce. A passare. Merda. Di una merda. Non si riesce. Non pericolo. Chissà. Non si riesce. Non si riesce. dai che è nostra il tuo sesso palla 50% noi 50% loro angolo, angolo, dai che angolo mamma mia signori stiamo massacrando dai pelo non si riesce non si riesce a farcola noia nooo mamma mia guardate che roba per un pelo non era quasi autonomo città mai dai 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 86 secondi se dovrebbe finire sulla parità Sono soddisfatissimo in questa partita Dai, dai che è nostra Dai che è nostra Fermati, vai Dai che è nostra Ma dai, ma vai a cagare Ho tirato una pizza E non ce la tirato Ma che cazzo sta mosca di merda Giuro che adesso la uccido Dai, dai l'ultima Dai signori, ultima azione Corri, non ce la fa più soddina Niente È morta Signori, questa partita è finita 0-0 Brescia, Bayern, Monaco Sono soddisfatissimo in questa partita Ringrazio il mio amico di avermi commentato Di dirmi da di fare Di fare questa partita Spero vi sia piaciuta Lasciate un like Commentate Condividete signori Ma specialmente Scrivetemi qua sotto La prossima partita che volete vedere Abbiamo fatto progressi Perché come avete visto nell'episodio precedente Lanciano e Barcellona Abbiamo perso solo di 1-0 E adesso Brescia e Bayern, Monaco 0-0 Quindi signori Stiamo migliorando lentamente Spero questa serie possa piacervi Io continueremo a farla Scrivetemi, ripeto, qua sotto Le squadre da fare Alla prossima Bella ragazzi Io continueremo a farla